E' stato siglato ieri a Roma il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e le 15 regioni riverasche italiane per la redazione entro dicembre 2016 delle linee guida nazionali a difesa delle coste da fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici. A sottoscrivere il protocollo per la regione Abruzzo è stato il sottosegretario regionale con delega all'ambiente Mario Mazzocca. Allo scopo è stato istituito un tavolo nazionale composto dal Ministero dell'Ambiente, regioni interessate, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA e la Comunità Scientifica. I lavori verteranno sulle seguenti tematiche principali, possibili soluzioni al problema erosione mirando al riequilibrio, protezione o adattamento per le coste, stato dell'arte sulla dinamica dei litorali e il fabbisogno di sedimenti, ricognizioni, analisi delle opere di difesa e delle misure di mitigazione, metodi innovativi per la valutazione della disponibilità dei sedimenti, inquadramento normativo e linee di azioni comuni per la gestione sostenibile della fascia e l'innovazione e lo sviluppo delle migliori strategie per gestire la fascia costiera. Non solo, obiettivo del tavolo nazionale è anche quello di interagire verso una progettualità ed ampiezza europea come nel programma Italia-Croazia 2014-2020, finanziato dall'Unione Europea che coinvolge un'area di 85.562 km2 per un totale di oltre 12 milioni di abitanti tra 8 contei croate e 25 province italiane.